Ciao, mi trovo a Brolo di Nemio, un paesino nella provincia di Verbania, sul lago Maggiore. Questo è il paese, detto, il paese dei gatti. Fino ad ora io ho trovato solamente un gatto randaggio, al quale ho dato tre bustine di cibo. Ecco, adesso vediamo un po'. Questa è la strescia del gatto. Qui dietro ci dovrebbero essere i gatti. Adesso io vado a prendere anche le bustine. Vedete qui? Vedete? Qui ci sono le piastrelle, anche al paese su ci sono le piastrelle con... Prendo le bustine. Ci sono le piastrelle con i gatti, però io gatti ne vedo veramente pochi. Andiamo a vedere qui, giù di qui, dentro questo vicoletto, che è anche un po'... Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco, vedete, qui ci sono, vedi, dei quadretti raffiguranti i gatti. Vedete? Qui dietro ci dovrebbero stare i gatti. Guarda che bei quadretti, guarda. Guarda che belli. Vediamo un po', vediamo un po'. Giù di qui, se troviamo qualche randaggino, da dargli, eh, una scatoletta. Vediamo un po'. Non ne vedo proprio, eh, non ne vedo proprio, vedo dei... Qui c'è una casa, vediamo. Vedete? Ci sono due gatti raffigurati e una porta. Però la porta è chiusa, è chiusa, è chiusa. Gatti qui non ne vedo. Eh, mamma mia. Qui siamo proprio nei vicoli del paese. Vediamo. Allora. Vedi, casa spagnola. Guarda qui, guarda. Guarda qui. Guarda che bello, guarda. Beh, quadretti dei gatti, casa spagnola, vedete. Eh, però gatti veri non ce ne sono. Eh, non ne vedo proprio, gatti. C'è di tutto, quadretti, ma gatti zero. Vedete, qui ci sono altri quadretti raffiguranti gatti. Vedete? Vedete? Vedete che bello? Anche questo, molto bello. Vedete, tutti bellissimi, eh. Dipinti a mano. Però gatti veri non ce ne sono proprio. E... Che delusione! Eh? È bello, è caratteristico. È un bel borgo, però... Purtroppo, di gatti, neanche l'ombra. Eh... Che peccato, veramente. Vi ho fatto vedere, perché sono venuta fin qui. E quindi, volevo farvi vedere questo borgo, che è nominato come borgo, mi hanno detto, eh. Come borgo dei gatti, però gatti... Ci sono tutti quadretti con dei gatti raffiguranti, ma gatti veramente neanche l'ombra. Da Brolo, Verbania, Lago Maggiore, è tutto. Alla prossima esplorazione. Ciao!